il leader della lega ma tocca a lui sciogliere riserve su draghi molti italiani me compreso pensano sia meglio resti al governo nessuno da sinistra può mettere veti su un'eventuale candidatura di silvio berlusconi al quirinale berlusconi ha fatto tre volte il presidente del consiglio è conosciuto a livello internazionale nessuno da sinistra può mettere vetti a priori bisogna aspettare che lui dica cosa vuol fare sciolgale riserve a tutto il titolo il merito di proporsi e il centro destra sarà unito e compatto così matteo salvini ospite di porta a porta in onda stasera sul tema del colle io in queste settimane non faccio toto quirinale spiega non mi unisco al toto nomi ma incontro riservatamente tante persone perché vorrei offrire agli italiani una scelta veloce e rapida con un centro destra compatto che dopo 30 anni ha la possibilità di fare una scelta culturalmente diversa ma che unisca sia di alto profilo sbaglia letta che dice se c'è tizio non mi siedo il pd in passato propose prodi e lesse napolitano mattarella che hanno svolto egregiamente il loro ruolo io penso che altrettanto egregiamente la rea liberale moderata sovranista identitaria possa esprimere la stessa scelta ha aggiunto sottolineando di essere per una repubblica presidenziale e federale ne parleremo nella prossima legislatura oggi ho incontrato mario draghi al senato e lo vedrò a breve ma con lui non ho parlato di quirinale ne ne parlerò ha detto ancora salvini io escludo draghi dalla corsa molti italiani me compreso pensano che debba continuare a svolgere un ruolo di garanzia se togli il tassello più importante di questo governo non so come ne usciamo